Al Barbabella di Allerona Scalo per la diciassettesima giornata del girone D di prima categoria Umbra sotto la direzione del signor Pannacci di Perugia scendono in campo Romè Aumenti e Tiber. Sfida ad alta quota con la Tiber prima in classifica a 38 punti, seguita dalla Romè Aumenti a 37 punti. La Romè Aumenti si porta subito in attacco con Marinacci che si distende prima al secondo minuto sul tiro di Fini deviando sopra la traversa e poi respingendo la conclusione del calcio di punizione. Marrano al quattordicesimo smarcarosi in aria prende male la mira mandando la palla sul fondo. Al sedicesimo su angolo della Romè Aumenti è ancora protagonista Marinacci che si distende deviando la palla. Al trentaduesimo sugli sviluppi di un calcio di punizione la difesa di Casaro respinge la palla che finisce sui piedi di Perugini che la infila in rete ma il signor Pannacci la annulla per fuori gioco. Sul ribaltamento di campo ci prova Cocchi mandando la palla sul fondo. La ripresa si apre con la Romè Aumenti che si porta subito in attacco. Zammarchi al secondo tira ma Marinacci respinge con la palla che finisce a Gio Marelli che anticipato da Saba la colpisce male servendo Fini che la rimette in mezzo dove per o nullo risolve la situazione mandandola in angolo. Zammarchi al decimo colpisce la barriera con la palla che ritorna sui suoi piedi che sulla ribattura trova Fini che la devia costringendo Marinacci a distendersi per respingere. Marrano al ventisettesimo risolve la mischia in aria innescata dalla punizione di Zammarchi. La Tiber al trentasettesimo prima colpisce la traversa e sulla ribattura Coletti la manda sul fondo. La Romè Aumenti ci crede e al quarantaduesimo passa in vantaggio con Santo che la insacca direttamente dentro. Al termine fisico finale è festa per i padroni di casa che grazie alla vittoria ottenuta si portano in testa alla classifica. Ma che dire sulla partita? Secondo me noi abbiamo fatto una buonissima partita. I ragazzi secondo me l'hanno interpretata al meglio. Siamo venuti qui a giocarcela e penso che ce la siamo giocati alla grande. Abbiamo creato tanta, abbiamo avuto molte occasioni da gol, abbiamo preso quattro pali se non sbaglio. Ci hanno annullato un gol secondo me ingiustamente. Abbiamo avuto delle situazioni per quanto riguarda le decisioni dell'Albio a sfavore, però alla fine non posso dire niente. La scuola avversaria ha fatto la sua partita, alla fine ha trovato questo gol sul calcio di punizione. Poi nel calcio le parole contano fino a un certo punto. Rimangono i fatti, i fatti sono che loro hanno fatto gol. Noi potevamo averli fatti un po' per sfortuna e poi ripeto un po' per altro perché l'avevamo anche fatto il gol ed è finita così. Andiamo avanti. Il campionato è ancora lungo. Siamo qui da commentare questa vittoria importante, fondamentale. Forse arrivata a due minuti dalla fine è ancora un valore maggiore. Comunque nonostante tutto abbiamo incontrato una grandissima squadra. La Tiber è squadra quadrata, formata da giocatori forti, esperti. Faccio veramente i complimenti alla Tiber. Tornando a noi abbiamo fatto una partita importante di sacrificio. Avevamo 5-6 assenze. Ho tenuto Mattia Baffo mezz'ora del secondo tempo, praticamente zoppio in campo. Ma la forza di questa squadra è il gruppo, è la voglia di raggiungere un risultato fino alla fine. Vogliamo raggiungere gli obiettivi massimo che possiamo raggiungere. Per fare questo bisogna buttare sempre il cuore oltre l'ostacolo. Non devo dire che grazie ai miei ragazzi ci alleniamo bene, durante le feste ci siamo allenati bene. L'ambiente è giusto, è sano, c'è un grandissimo gruppo. E questa vittoria credo che sia proprio il coronamento di questa stagione fatta fin qui.